Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È intervenuto, così leggo su ansa.it, sulla vexata questio delle chiusure delle scuole e delle università per il Ramadan anche il ministro dell'istruzione Valditara, il quale ha detto in maniera laconica e testuale scuole mai chiuse per festività non riconosciute. Ora, in questo caso non posso che essere d'accordo con la posizione presa dal ministro Valditara. Preciso subito che, come più volte ho dichiarato e che ripeto e come ripeto anche ora a scanso di equivoci, che io ho il massimo rispetto per l'Islam, che proprio come il cristianesimo ritengo una risorsa simbolica di resistenza alla civiltà del nulla e alla dittatura del relativismo, come la chiamava Ratzinger, e però altra cosa è istituire ad hoc delle feste non riconosciute. Il Ramadan, con il massimo rispetto per questa festa tanto importante per il mondo musulmano, non è una festività riconosciuta dal calendario italiano e dunque non si capisce perché mai le scuole dovrebbero rimanere chiuse per il Ramadan o per altre feste ugualmente non riconosciute. Ribadiamo l'ovvio, ma in tempi di confusione come i nostri anche ribadire l'ovvio diventa rivoluzionario e come mi piace dire anche l'ovvio vuole la sua parte. Lo Stato sta al di sopra delle religioni, quali che siano, lo Stato viene prima rispetto alla religione, è un punto saldo della filosofia hegeliana, un punto saldo che mi piace rimarcare e sottolineare. L'Italia deve mantenere questo punto saldo senza cedere in alcun modo, che tra l'altro se passa al principio per cui ogni religione può istituire la sua festa, a quel punto diventa un'unica festa permanente, da che ogni religione ha del tutto legittimamente le sue feste, che meritano indubbiamente il massimo rispetto e che però non possono interferire con la vita pubblica dello Stato che sta, ripeto, al di sopra delle religioni.